Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Gesù ti amo con la tua volontà. Vieni divina volontà a pregare in me e poi offri questa preghiera a te come mia per soddisfare le preghiere di tutti e per dare al Padre la gloria che dovrebbero dargli tutte le creature. Mia divina Maria ti amo nella divina volontà. Regina Immacolata vengo sulle tue ginocchia materne per abbandonarmi fra le tue braccia, per chiederti cosa spiriti più ardenti che mi ammetta a vivere nel regno della divina volontà. Mamma Santa, tu che sei la regina di questo regno, ammettimi a vivere in esso affinché non sia più deserto ma popolato dai figli tuoi. Perciò sovrana regina a te mi affido affinché guidi i miei passi nel regno del volere divino e stretto alla tua mano materna, guiderai tutto l'essere mio affinché faccia vita perenne nella divina volontà. Tu mi farei da mamma e come mamma mia ti faccio la consegna della mia volontà affinché me la scambi con la divina volontà e così possa restare sicuro di non uscire dal regno suo. Perciò ti prego che mi illumini attraverso questa meditazione per farmi comprendere sempre più e sempre meglio che cosa significa volontà di Dio e come vivere in essa. Ave Maria piena di grazia il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria madre di Dio prega per noi peccatori adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Grazie a tutti. Mio Signore, vengo a te, a chiedere il tuo regno sulla terra. voglio darti la lode e la gloria di ordinare tutto nel tuo volere e riconoscerti per tutti mio Signore. Mio Signore, mio Dio, ti do il mio volere, mio Re. mio Dio, ti do il mio regno, mio Dio, ti do il mio volere, mio Re. Dio, ti do il mio regno. Dio, ti do il mio regno. dal libro di cielo volume 20 29 dicembre 1926 come nell'umanità di nostro signore fu formata la nuova creazione del regno della volontà suprema il mio dolce gesù nel venire si faceva vedere che portava in mezzo al suo petto un sole stretto stretto fra le sue braccia ed avvicinandosi a me ha preso quel sole da mezzo al suo petto con le sue mani e me l'ha messo in mezzo al mio poi mi ha preso le mie mani fra le sue e le ha incrociate strette strette sopra quel sole dicendomi questo sole è la mia volontà tienilo stretto non te lo fare mai sfuggire perché esso tiene il potere di convertire te e tutti gli atti tuoi tutto in luce in modo da incorporarti tutta in esso da formare un solo sole onde dopo ciò stavo pensando tutto ciò che il mio dolce gesù aveva fatto nella sua venuta sulla terra per la redenzione per unirmi agli atti suoi e chiedergli per amore dei suoi stessi atti che facesse conoscere la sua volontà per farla regnare ed il mio adorato gesù ha soggiunto figlia mia come la mia umanità fu concepita così cominciai una nuova creazione per stendere il regno della mia volontà sopra tutti gli atti che faceva la mia umanità tutti gli atti miei che facevo dentro e fuori di essa erano animati da una volontà divina che conteneva la potenza creatrice e perciò i miei atti subivano la nuova creazione e si convertivano in atti di volontà divina estendevano il mio interno ed in tutti gli atti miei esterni il suo regno difatti chi distrusse e respinse questo regno della mia volontà nell'uomo la sua volontà umana che respingendola da sé non si lasciò dominare animare dalla mia ma si fece dominare ed animare dalla sua e vi formò il regno delle miserie delle passioni e delle rovine ora la mia umanità prima di tutto doveva rifare richiamare questo regno del volere supremo in me nella mia natura umana per potermi accingere a formare la redenzione e così poter dare all'umano genere i rimedi per salvarsi se non avessi messo in me in salvo questo regno non gli avessi dato i suoi diritti di dominio non avrei potuto formare il bene della redenzione la mia volontà divina sarebbe stata inesorabile nel non cedermi i suoi beni se non avessi avuto il diritto primo di formare il suo regno in me e poi come secondo atto mi cedeva i rimedi per salvare le creature sicché la mia volontà suprema si schierava in tutti gli atti miei essa dominava e trionfante investiva con la sua potenza creatrice le mie lacrime e gemiti i miei sospiri palpiti passi opere parole e pene insomma tutto e come l'investiva l'imperlava con la sua luce interminabile e formava la nuova creazione del suo regno in tutti gli atti miei perciò ogni cosa in più che io facevo il fiat divino allargava i confini del suo regno nella mia umanità ora se la creazione fu chiamata dal nulla e fu formata sulla base della mia parola creatrice che disse e creò comandò e tutte le cose presero il loro posto d'ordine d'armonia invece nella creazione del regno del mio supremo volere non si contentò del nulla per formarlo ma volle per garanzia di sicurezza le basi le fondamenta e tutti gli atti e pene della mia umanità santissima per formare la creazione del suo regno vedi dunque quanto costò questo regno del mio volere con quanto amore lo svolse in me perciò questo regno esiste non resta altro che farlo conoscere per far uscire in campo tutti i beni che contiene onde quello che voglio da te è che come la mia umanità lascio libera la mia volontà per farle formare il suo regno così tu mi lasci libero non ti opponi in nulla affinché non trovando in te nessuna opposizione i miei atti scorrano in te e prendendo il loro posto d'onore si schierino tutti ordinati per continuare in te la vita del regno della mia volontà dopo di ciò il mio dolce gesù come lampo mi è sfuggito ed io volevo seguirlo ma con somma mia amarezza vedevo che in quel lampo dovevano venire malattie contagiose che serpeggeranno quasi in tutte le nazioni non esclusa l'italia nostra pareva che molti ne morivano fino a spopolare le case in parecchie nazioni inferiva più forte il flagello ma quasi tutte saranno toccate sembra che si danno la mano nell'offendere il signore nostro il nostro signore tocca con gli stessi flagelli ma spero che voglia a placarsi così i popoli soffriranno di meno bene cominciamo questa meditazione il cui cuore è anche un punto diciamo focale da cui andare a raccogliere tutti quanti gli spunti che essa ci dà è quella importantissima frase che gesù dice verso la fine questo regno esiste non resta altro che farlo conoscere per fare uscire in campo tutti i beni che contiene allora gesù può dire questa cosa dopo aver spiegato che in tutti gli atti della sua santissima umanità aveva disteso questo regno cioè compiendoli tutti nessuno escluso nel regno della volontà divina questo è un punto diciamo fondamentale e di comprensione un po di tutta quanto il senso dell'opera che gesù ha fatto con questa serva di dio sinceramente non non è proprio molto molto adatto a un contesto di meditazione ecco perché questo è più argomento da da catechesi però proviamo a dargli comunque un taglio adatto alla alla preghiera no e quindi a tirare poi fuori le cose che la meditazione è incaricata insomma di far venire a galla allora il regno della divina volontà esiste perché è stato compiuto con perfezione assoluta sul pianeta terra non altrove da due umanità santissime una è quella di nostro signore gesù cristo e una è quella di maria santissima il primo possedeva la divina volontà per natura in quanto dio ma la sua volontà umana che attenzione era ben distinta da quella divina in ogni atto meditando tra l'altro per questo ha dovuto fondersi unirsi con la sua stessa volontà divina per formare il suo regno in lei attenzione a questo punto proprio oggi credo di aver impostato sui social un articolo molto importante perché sia un pochino evidentemente dottrinale ma del concilio di costantinopoli terzo che ha condannato il cosiddetto monotelismo cioè quell'eresia che diceva che ma sì gesù cristo in fondo è dio quindi la sua volontà divina è assolutamente preponderante quindi quello umano è quasi come se non esistesse quindi di fatto le volontà di gesù sono una attenzione questo distruggerebbe tutto quanto le volontà di gesù erano due quella umana e quella divina e sotto questo punto di vista certamente noi non siamo come lui dio per natura ma non lo era neanche la madonna questo ci può aiutare no perché noi possiamo trovare in lui un modello un maestro un aiuto perché anche la sua santissima umanità come certamente in maniera perfettissima in maniera straordinaria ma ha dovuto compiere gli atti nella sua stessa volontà divina come facciamo noi analogamente non in maniera identica certamente però in maniera reale quindi non era tutto automatico e ovvio in gesù no non lo era altrimenti non potrebbe presentarsi come nostro maestro e oltre che come nostro redentore no noi sappiamo che la tradizione della chiesa ha sempre insegnato che gesù è anche un maestro ed è anche un modello cioè limitazione di cristo che ha costituito e costituisce il primo punto fondamentale per un cammino di santità significa che la sua umanità è un paradigma è un punto di riferimento e lo è anche nel nostro tentativo diciamo così goffo forse maldestro perché non siamo certamente bravi come lui di entrare nel regno della divina volontà perché l'ha fatto anche lui cioè i miei atti subivano una nuova creazione si convertiva in atti di volontà divina cioè gli atti della volontà umana di gesù qui sta dicendo se subivano un processo analogo a quello che subiscono i nostri quando noi facciamo un atto nella divina volontà questo dovremmo averli imparato quell'atto non è più semplicemente un atto umano ma diventa un atto divino anche se questo non causa in noi alterazioni di personalità o percezione sensibile di questo no le cose spirituali non causano percezione sensibile cioè san luigi monforto quando scrisse il trattato della traduzione spiegava che quando uno si dà completamente a maria ti sembra che non è successo niente ma è successo tutto e per far capire questo esempio faceva anche l'esempio abbastanza forte del contrario cioè se uno dio non voglia dovesse andare a fare la follia di offrirsi al nemico se compie volontariamente quell'atto il nemico se lo prende quell'atto e quella persona da quel momento comincia ad essere consagrata al nemico e appartenere a lui non è uno scherzo quindi sotto questo punto di vista il primo aspetto fondamentale di meditazione è che Gesù il nostro maestro è anche il nostro esempio quando noi magari avvertiamo ogni tanto un po di difficoltà di dimenticanza insomma di fatica anche della dell'attenzione della memoria a rimanere saldi ecco quindi sempre connessi e legati con la divina volontà perché tutto in noi possa diventare soprannaturale divino possiamo e dobbiamo chiedere aiuto al nostro signore non solo come il nostro dio quindi come fonte suprema ecco della della divina volontà ma anche come nostro maestro fratello cioè di donarci la partecipazione a quel suo stesso spirito che gli ha consentito quando era sulla terra di fare assolutamente in maniera non faceva altro l'umanità santissima di Gesù questo ce l'ha rivelato Luisa e per tutti noi in maniera perfettissima ecco questo il primo punto fondamentale di meditazione il secondo è questo perché Gesù ha fatto tutto questo e perché è abbastanza semplice perché un regno per esistere deve distendersi quindi deve essere effettivo e operativo cioè quando pensiamo al regno della divina volontà per analogia noi dobbiamo pensare ai vecchi regni umani d'accordo è un regno perché si formi non basta che esista un re con la sua volontà d'accordo quel regola sua volontà deve avere un territorio d'accordo e deve avere dei sudditi che gli obbediscono se no il regno non c'è allora il regno della divina volontà deve avere un territorio qual è il territorio territorio del genere umano è la nostra anima e deve avere degli individui che gli obbediscono chi sono chi riconosce il re come tale lo ascolta quindi chi accoglie la divina volontà chi vuole farla regnare chi si impegna chi cerca di conoscerla no perché come faccio a farla regnare se non la faccio se non la conosco conoscerla anzitutto come sempre si è fatto per farla e qui il cammino non termina mai perché cioè quando uno si mette vicino al signore cioè la raffinazione di questa capacità di discernimento comincia e poi arriva a livelli impensabili cioè un santo già un santo classico chiamiamo così un santo della che discerne fa attenzione a certe cose che c'è generalmente insomma non 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 ci si fa neanche caso no io ricordo un episodio di questa che credo sia serva di dio non è ancora santa no era una persona molto molto cara a noi italiani un'anima semplicissima una tuzza evolo insomma io ricordo che mi fu raccontato per esempio la sua straordinaria carità no e questo anche noi dobbiamo farci attenti cioè lei aveva dei doni come tutti sappiamo poteva capitare che andasse da lei una persona che aveva avuto un male quindi malata di una malattia seria e era andata da un medico che gli aveva sbagliato la diagnosi non ci aveva capito niente allora notuzza per non mancare alla carità lei lo sapeva perché gli veniva rivelato guarda questo devo andare ad un altro medico perché si ascolta quello che ha detto questo medico more però notuzza non gli diceva guarda che il medico non ci ha capito niente vai da qualcun altro ma non si sarebbe mai permessa perché perché avrebbe mortificato il medico vedete com'è noi umani penseremmo ma che gli fa quello un ignorante incompetente ma questa la fa morì non si ragiona così nel cielo perché quel medico c'ha la sua onorabilità c'ha la sua dignità nessuno se lo può mettere sotto i piedi certo bisogna aiutare sta poraccia perché si ascolta il medico more allora notuzza diceva allora fa una cosa ma senti in un altro paio sai quando uno ha un grande male è sempre bene che si sentano due tre pareri insomma così poi uno si fa un'idea e vede insomma quello che è più attendibile no quindi dicendo questo non aveva mancato la carità perché non gli ha detto quello non ha capito niente gli ha detto vai da qualcun altro domanda noi siamo capaci di fare questo quindi questo per per far comprendere ma noi dobbiamo arrivare a questo e anche oltre questo livello perché come dire la delicatezza e il rispetto proprio quasi quasi religioso nei confronti del prossimo quasi religioso perché dico quasi perché il prossimo è certamente un essere umano ma è un essere umano che porta l'immagine e la somiglianza di dio l'anima di quell'essere umano l'ha creata all'altissimo è un capolavoro unico e ripetibile dell'altissimo l'anima è stata redenta dal sangue di cristo chiunque sia che mi sta davanti io c'ho davanti una persona il cui valore equivale all'intero sangue versato da nostro signore gesù cristo come faccio io a disprezzarla come faccio io a mortificarla a umiliarla a trattarla male come si fa se sono convinto di questa che è la verità ecco perché gesù dice attenzione il regno bisogna conoscerlo se no non ci si entra quindi anche questa nostra continua raffinazione mi è venuto questo termine nel discernere anche nelle cose piccolissime la volontà di dio anche nelle piccolissime scelte questo poi è l'esperienza che non si potrebbero fare un milione di esempi e magari non andare a cogliere le situazioni personali perché sono indefinite no ma questa è una cosa importantissima d'accordo ecco quindi quindi questo regno doveva essere formato quindi ci voleva qualcuno che lo riconoscesse lo accogliesse e lo vivesse dice gesù dice la creazione è stata fatta dal nulla ah no ma il regno della divina volontà il cielo ha voluto blindarlo cioè ci stanno due lui non parla della madonna ma ne parla in altri punti insomma in cui è già tutto compiuto e realizzato quindi cioè già c'è quindi è una cosa che siccome già c'è si tratta semplicemente di conoscerla e prenderla perché quella cosa c'è ed è stata fatta non solo per gesù ma soprattutto per noi perché anche noi potessimo viverla la madonna su questo l'abbiamo detto tante volte non desidera altro cioè il senso di tutte quante le apparizioni mariane riconosciute il senso degli appelli della madonna la conversione ma i messaggi belli della madonna parlano sempre di conversione di preghiera del cuore di unione profonda con dio di amore universale di amore verso tutto di amore fratelli di di gioia di di pace cioè di tutte quelle cose che vanno a configurare un'anima che noi chiameremmo un'anima santa un'anima che ha percorso in terra presa un cammino di santità e la divina volontà come sappiamo è il coronamento è il punto d'arrivo è come sono come le guglie di una di una cattedrale insomma no quindi è qualche cosa di di grande ecco di bello ma che va a completare come dire a coronare a portare a compimento se vogliamo usare un vocabolario biblico e il già straordinariamente bello che ci abbiamo che abbiamo ricevuto e che abbiamo sempre vissuto ecco questo perché era necessario perché da dopo Adamo è stato creato un altro regno Gesù lo dice il mio regno non è di questo mondo e dice nel Vangelo di San Giovanni per chi ascolta la diretta insomma oggi pomeriggio faremo un altro incontro sul bellissimo Vangelo di San Giovanni ma nel Vangelo di San Giovanni Gesù chiama sempre il diavolo il principe di questo mondo che significa significa che c'è un regno purtroppo il diavolo ha il suo orrido regno orrido bruttissimo ma molto affollato a quanto pare perché è un regno della menzogna un regno dell'inganno è il signore degli inganni quindi satana nelle fiabe è stato supponiamo pensiamo al paese dei balocchi ecco se vogliamo fare come dire una rappresentazione allegorica come dire graziosa anche se purtroppo in realtà non è che è così grazioso è quindi le luciole del paese dei balocchi se ricordiamo la favola dei Pinocchi tutti vanno a che bello qua si gioca tutti i giorni dalla mattina alla sera non si fa a scuola è sempre domenica eccetera eccetera e poi la mattina dopo te alzi e te sono venute le orecchie da Somaro e poi vieni venduto a mangiafuoco quindi ma questo è il regno di satana quindi non cioè espressi in forma come dire garbata e graziosa è un gigantesco inganno ma quasi tutti ci cascano a cominciare dai nostri progenitori entri nel regno di satana che ricordiamo sempre il regno di satana è il regno della volontà umana perché il motto del fondatore dei satanisti purtroppo contemporanei era fai quello che vuoi cioè fai in modo che la tua volontà umana sia sganciata da quella divina e che tu possa fare quello che ti pare quindi basta questo per entrare nel regno di satana attenzione non bisogna iscriversi a qualche setta o a cose di questo genere o fare cose astruse o evocare gli spiriti no no basta semplicemente fare tutto quello che tutto quello che ci pare piace ecco siamo dei perfetti insomma candidati purtroppo al regno del principe delle tenebre candidati quando non purtroppo già cittadini con tanto di carta d'identità purtroppo e che cosa c'ha questo regno Gesù dice la sua volontà che respingendo da sé quella divina non lasciandosi dominare da essa animandosi dalla mia facendosi animare dalla mia si fece dominare da ed animare dalla sua cioè chi comanda dentro di noi bella domanda e vi formò il regno vedete che c'è un regno anche qui quale qual è il nostro regno come facciamo vedere qual è il nostro regno e guardate un pochino dentro miseria e passioni e rovine questo è il regno della della volontà umana come campano le persone che appunto abbagliate dalle lucciole dai balocchi dal paese dei balocchi degli idoli del mondo con cui il diavolo si compra come dire la fiducia di larga parte del genere umano va a vedere anche poi che bello che se è così bello insomma il paese dei dei balocchi è l'inferno sulla terra mascherato da qualche violento passeggero fugace e più instabile di uno stelo d'erba questo è il regno della volontà umana purtroppo quel regno che porta miseria e passioni e rovine ora Gesù infine dice un'altra cosa che l'ultimo punto di meditazione molto molto importante no e che questo regno che esiste deve essere conosciuto perché escano in campo tutti i beni che contiene quindi ecco perché ha fatto scrittere tante cose a lui ed ecco perché è importantissimo che noi abbiamo sempre come cura primaria la crescita nella conoscenza e pregando lo spirito santo nella comprensione di ciò che questo regno è perché noi non possiamo assolutamente e fare nostro né amare né quindi possedere ciò che non conosciamo quindi la conoscenza è una cosa che dobbiamo curare noi a titolo personale cioè queste sono delle belle meditazioni ma belle insomma non lo so sono meditazioni ecco però noi dobbiamo avere come dire se uno vuole entrare in questo mondo io suggerisco insomma una lettura personale e assidua frequenti magari solo un brano quotidiano al giorno a quello bisogna dargli un'occhiata perché il materiale è molto molto vasto sono tante cose sono 36 volumi 15 ma ci volevano 36 volumi non possiamo fare il processo alle alle intenzioni alle disposizioni del dell'altissimo se ha fatto 36 volumi ci volevano 36 volumi distribuiti nell'arco di 40 anni questi sono come le persone che che non credono tanto a me giugorio cosa che tra l'altro è perfettamente in teoria legittime insomma non si è obbligati non si è neanche obbligati a credere a come dire alla soprannaturalità allo stato attuale e del degli iscritti di luisa è un atto del tutto personale libero volontario e tra l'altro soggetto ad eventuali io le ritengo inverosimili ma eventuali come dire pronunce dissuasive da parte dell'autorità ecclesiastica competente no per esempio le persone che sono distanti da me giugorio tra le cose che dicono è 40 anni di messaggi ma 40 anni di messaggi sono molto molto brevi non credo che se uno mettesse insieme 40 anni di messaggi arriva a comporre un libro della mole dei 36 volumi del libro di cerro non credo proprio ma gli stili e i tempi di dio dice 40 anni ma non poteva fare una lezione cina insomma proprio breve sintetica gesù un po più chiara si mette seduto a tavolino diciamo che le esemplificazioni catechetiche i percorsi catechetici dio vuole che li elaboriamo noi la stessa cosa che ha fatto con con la bibbia no dio ha dato la liberazione è stata raccolta nei libri sacri è stato fatto il canone dall'autorità ecclesiastica e poi sulla base di essi si fa il catechismo cioè catechismo non è altro che una presentazione ordinata sistematica dei dati che dio ci ha rivelato non è una cosa come dire se uno si pensa ben detta diciamo io non mi interessa il catechismo leggo la bibbia ma nel catechismo c'è la bibbia interpretata e riordinata non c'è nient'altro che 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 non solo interpretata e riordinata ma interpretata correttamente e riordinata organicamente in una maniera fatta bene così tutti quanti questi volumi del libro di cielo gesù dice che aspetta proprio sacerdoti insomma di cercare di darne una presentazione sintetica completa esaustiva per aiutare le persone a entrarci è chiaro che questo non sostituisce il impegno personale che certamente tutti quanti abbiamo nel ricordo appunto di queste parole questo regno esiste non resta altro che farlo conoscere per far uscire in campo tutti i beni che contiene o santa vergine maria ringraziamo te e gesù che oggi abbiamo contemplato entrambi come nostre oltre che guida e anche esempi modelli perché il nostro compito non è altro che di fare quello che avete fatto voi fare nostro anzitutto quello che voi avete fatto per noi e ripetere quello che voi avete fatto ecco con noi come re e regina ecco di questo di questo regno e anche tu personalmente come prima e più illustre rappresentante ecco del regno della divina volontà abbiamo meditato su questo e che possiamo sempre meglio conoscerlo lavorando in questo con con costanza e con perseveranza e crescere come abbiamo visto nella delicatezza e nella raffinazione della conoscenza del riferimento anche dei divini voleri di allontanare ogni giorno di più da noi il regno tossico della volontà umana con tutte le sue miserie passioni e rovine in questo si sempre il nostro sostegno il nostro aiuto e la nostra forza nella divina volontà nel nome del padre del figlio e dello spirito santo amen ti benedico per aiutarti ti benedico per difenderti ti benedico per perdonarti ti benedico per liberarti da ogni male ti benedico per consolarti ti benedico per farti santo ti benedico dunque nella divina volontà nel nome del padre e del figlio e dello spirito santo fiat ave maria